signori buongiorno ciao partita alla diretta ciao ciao si si giro partita ciao manca Claudio ciao 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 grande Cristian allora iniziamo ciao a tutti e grazie per essere venuti siamo qua per presentarvi River Rock Festival che come saprete quest'anno è arrivata la sua decima edizione non a caso oggi lo presentiamo oggi che è il 10 maggio siamo anche in diretta Facebook quindi salutiamo anche gli amici che ci seguono da casa non ci dilungheremo tantissimo perché stiamo allestendo il concerto dei Negrita che insieme a Manuel Agnelli è il secondo sold out della nostra data invernali indoor ora lascio la parola a Jacopo che vi presenterà in maniera più dettagliata il nostro festival grazie a tutti per essere intervenuti grazie a tutti 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 grazie a tutti